Nel 1844 in Persia un giovane proclamò che il grande giorno di Dio, promesso da tutti i testi sacri conosciuti e non, era arrivato. I suoi insegnamenti si diffusero rapidamente e arrivarono al cuore del paese sconvolgendolo. Il Baab sostiene che la sua missione è di preparare il terreno per ciò che sarebbe avvenuto di lì a poco. Un messaggero infatti si sarebbe impegnato a dare guida, raccomandazioni, suggerimenti e leggi affinché il genere umano potesse realizzare l'unità dei popoli e vivere finalmente nella pace e nella fratellanza. Questo giovane seppe creare grande commozione e infinita devozione nel cuore di migliaia e migliaia di donne e uomini, molti dei quali hanno voluto sacrificare la loro stessa vita piuttosto che rinnegare il loro grande amore per lui. Grande fu l'opposizione del clero a questa nuova realtà e al Baab, i cui insegnamenti ne mettevano in pericolo la posizione e a nudo l'ipocrisia. Dai loro pulpiti lo denunciarono come eretico e nemico di Dio e della religione, suscitando ondate di pregiudizio e odio fanatico. Il Baab, dopo sei anni di sofferenze e continua persecuzione, viene messo a morte pubblicamente. Aveva 31 anni. Sereno e saldo fino alla fine, il Baab offrì volontariamente la propria vita per la sua causa, assicurando che il grido si era levato e che molti ora erano pronti a riconoscere e sostenere il promesso, di cui egli era l'araldo. Il Baab fu l'araldo dell'ultimo messaggeri, di colui che ha portato nuovi insegnamenti spirituali e sociali fondamentali per l'umanità d'oggi. Colui che ci ha insegnato che Dio è uno, che l'umanità è una e che la religione non può che essere una nelle sue innumerevoli espressioni. Baha'u'llah nasce a Teheran il 12 novembre 1817. Fin dalla sua adolescenza gli veniva riconosciuta una straordinaria capacità di comprendere i passi delle scritture sacre, anche i più complessi, e questo senza che avesse mai frequentato le scuole. Baha'u'llah affascinava il cuore e la mente di chi lo conosceva, grazie anche alla sua natura amorevole e incantevole e modestia. Grazie alle sue continue attenzioni verso i poveri e gli oppressi, divenne noto come il padre dei poveri. Benché cresciuto tra agi e ricchezze, non mostrava attaccamento alle cose materiali che lo circondavano. Quando suo padre morì, il governo gli offrì la carica di ministro, che egli rifiutò, il che non sorprese il primo ministro, che disse Un tale incarico non è degno di lui, io non riesco a capirlo, ma sono convinto che sia destinato a una carriera nobile. I suoi pensieri non sono come i nostri. Baha'u'llah aveva 27 anni ed era a Teheran quando venne a sapere del Bab ed accettò il nuovo messaggio senza la minima esitazione, sebbene i due non si fossero mai incontrati. Identificatosi con la casa del Bab si levò a promulgarne gli insegnamenti e a condividerne pericoli e sofferenze con i suoi seguaci. A causa di ciò tutti i suoi beni vennero confiscati e venne gettato in una prigione sotterranea chiamata al buco nero. Fu in questa cupa prigione che Baha'u'llah prese coscienza della sua missione. Dopo quattro mesi, ormai allo stremo delle forze, Baha'u'llah fu rilasciato, ma esiliato a Baghdad dove rimase per dieci anni accompagnato da coloro che avevano volontariamente deciso di seguirlo. Il movimento creato dal Bab, erroneamente ritenuto estinto dalle autorità, era sopravvissuto alle persecuzioni e alle opurazioni organizzate dal governo e andava rafforzandosi sotto la guida di Baha'u'llah. Le autorità decisero quindi di allontanarlo ulteriormente, trasferendolo a Costantinopoli. Prima di partire, egli sollevò il velo del mistero che circondava il suo rango e annunciò di essere il grande maestro promesso, il cui avvento era stato preparato dal Bab. Seguì un altro esilio ad Adrianopoli, dove Baha'u'llah proclamò la propria missione ai governanti del mondo e ai capi ecclesiastici di tutte le religioni, invitandoli al disarmo, alla proclamazione della pace mondiale, all'ascolto del messaggio di Dio ed ammonendoli delle conseguenze dei propri atti. Fu allora relegato in una lontana colonia penale nella città a prigione di Acca, in Palestina, allora parte dell'antico impero ottomano. Dopo nove anni di confino, a Baha'u'llah fu chiesto dal capo religioso della città di lasciare il carcere all'interno delle mura per trasferirsi in una casa nella campagna vicina. Nonostante il fatto che la sentenza di carcere a vita non fosse mai stata revocata, Baha'u'llah trascorse gli ultimi anni della sua vita in condizioni ben diverse da quelle che i suoi nemici avevano immaginato. Fiumi di visitatori arrivarono da paesi limitrofi ad ascoltare il suo messaggio e il numero crescente di seguaci, ora conosciuti come Baha'i, portarono il vitale messaggio dalla Terra Santa al mondo intero. Nel corso della sua turbolenta vita, Baha'u'llah trovò il tempo di scrivere opere che riempirebbero più di cento volumi e prima di morire, nel 1892, egli salvaguardò la sua fede da scismi e divisioni nominando suo figlio, Abdul Baha'u'llah come colui a cui tutti i Baha'i avrebbero dovuto rivolgersi per una guida. Quale unico? Interprete dei suoi scritti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.